Quest'anno ricorre il 276esimo anniversario della morte di San Francesco Antonio Fasani, il santo di Lucera. Il comitato feste Santuario San Francesco Antonio Fasani comunica che le celebrazioni 2018 saranno ancora una volta caratterizzate da un maggior contenimento delle spese superflue e l'intero ricavato della vendita dei panini benedetti sarà devoluto alla missione francescana in Venezuela. Tra le rinunce figurano i fuochi d'artificio. Il programma allestito al santuario come sempre parte dalla novena in onore del santo che prenderà il via martedì 20 novembre con il consueto avvicendamento delle nove parrocchie di Lucera chiamate ad animare la messa vespertina delle 18 alla Basilica di Piazza Tribunali preceduta dalla recita del rosario. Tra gli eventi collaterali figurano il prologo alla novena di lunedì 19 novembre alle 18 con il ritrovo in chiesa di tutte le confraternite della diocesi Lucera Troia. Domenica 18 novembre alle 18 e 30 Don Carlo dell'Osso, docente di patristica al Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana a Roma, presenterà il volume Dio chiede il cuore curato dal rettore del santuario padre Eugenio Galignano e incentrato su scritti inediti di San Francesco Antonio Fasani. La sera del 28 novembre appuntamento con la celebrazione del transito del padre maestro, mentre il 29 novembre, giorno della festa, le messe sono previste alle 8, 10 e 11 e 30 con la partecipazione degli alunni delle scuole della città. Alle 17 e 30 solenne celebrazione eucaristica preseduta dal vescovo Giuseppe Giuliano con animazione liturgica della Corale Santa Cecilia a cui farà seguito la processione per le vie della città e uno spettacolo del gruppo Sbandieratori Puerapulie.